Che non basta denunciare le speculazioni, bisogna intervenire. Quando noi andiamo oggi a fare il pieno di benzina, molti distributori vendono la benzina che hanno stoccato da due anni e quindi hanno comprato con il costo di due anni fa. La domanda è chi deve intervenire per questa che per noi è una speculazione. E la stessa cosa riguarda il costo dell'energia. Alcune aziende, anche con partecipazione italiana, hanno contratti per i quali comprano il gas a un prezzo stabilizzato per dieci anni e lo rivendono a un prezzo di mercato, anche in questo caso.